Bentornati guerrieri e bentornate guerriere qui su LR Channel. Oggi voglio parlare con voi di un argomento che mi è stato ispirato da qualche video che ho visto ultimamente in rete. L'argomento è ancora una volta riguardante le aspettative che gli altri hanno sulla nostra vita e il fatto che noi possiamo deluderle o meno. Se volete fare qualche riflessione con me su questa tematica importantissima e così tanto chiacchierata che viene fuori e riviene fuori ogni volta in ogni occasione ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Questo video mi è stato ispirato da parecchi altri video di ragazze e ragazzi giovani, giovani comunque diciottenni o addirittura non ancora maggiorenni o appena poco più che maggiorenni che fanno video nei quali raccontano magari alcune cose intime della loro personalità, della loro vita, del loro percorso e dicono di non voler deludere le aspettative che i loro genitori hanno su di loro, che i loro amici hanno su di loro, che i loro conoscenti hanno su di loro. Allora il giudizio degli altri e la paura di deludere gli altri è un qualcosa di molto molto forte. in ognuno di noi, tutti noi in qualche modo, chi più chi meno, abbiamo paura di confrontarci con quella parte di noi stessi che potrebbe deludere le aspettative soprattutto di chi amiamo, nel bene e nel male. Vi faccio un esempio brutto da dire, però è molto vero purtroppo. Ci sono tanti bambini che si sentono ripetere stupido, delinquente, in maniera bonaria anche magari, però sempre con un fondo di verità, non fare il cretino, ma quanto sei stupido, quanto sei scemo, da grande non farai mai niente, che si sentono ripetere queste cose dai genitori. E spesso mi sono resa conto proprio in questo periodo, in questi ultimi anni della mia vita, perché sono stata molto a contatto con mia nipote che ha sei anni, e ho visto proprio anche tra i suoi amichetti, le sue amichette dell'asilo, quando andavo a prenderla, quando ci fermavamo a mangiare il gelato, a fare la merenda, la portavo alle feste, così mi sono proprio resa conto che i bambini cercano di non deludere l'aspettativa del genitore, e quindi anche quando il genitore gli dice che è stupido, oppure che tanto lui non ce la fa, non so, mi ricordo una bambina molto esile, molto gracile, che la mamma gli diceva, ma no, ma no, ma non andare su quella cosa lì, eravamo al parco giochi, tanto non ce la fai? E questa bambina nemmeno ci provava giusto per non deludere le aspettative della mamma. E anche quando andavo lì io, magari per aiutarla, e le facevo fare un passettino alla volta, dicendole come doveva fare, nel fondo non erano cose pericolose, lei si lasciava cadere, si lasciava fallire nel tentativo di portare a compimento quel gioco, quella giostra del parco giochi, non so come si chiamano, i cubi, quelle robe lì, pur di non deludere l'aspettativa della mamma, perché la mamma gliel'aveva detto, che tanto lei non era in grado di farlo. E si capisce quando un bambino davvero non è in grado, e quando un bambino invece non vuole deludere l'immagine che è la sua mamma. E noi cresciamo così, quando, non so, quando i genitori ci dicono ah dai, fammi un sorrisetto, fammi un sorrisone solo per me, dai, ma non avere quel broncio lì, magari noi siamo arrabbiati per qualche cosa che non ci è andato bene, giusto o sbagliato che sia, sapete che io cerco di non soffermarmi mai sul giudizio di un fatto, quindi giusto o sbagliato che sia, magari stiamo facendo un capriccio, magari invece è una cosa per la quale siamo feriti, siamo stati feriti a morte, una delusione da parte di un amico, di una cosa che non siamo riusciti a fare, eccetera, no? E noi siamo lì nel nostro mood, tutto triste, imbronciato, arrabbiato, chiuso, e la mamma viene lì e ci dice dai, fammi un sorrisetto, un sorrisone solo per me, che poi la mamma ci rimane tanto male. E quante volte ci è successo? E quante volte abbiamo comunque, ci siamo comunque sforzati di fare qualcosa che non ci andava di fare in quel momento lì, o non ci piaceva fare, o non volevamo fare, solo per il piacere di vedere sul volto di un altro che non era deluso da noi, che non avevamo deluso le sue aspettative. Questa cosa si ripercuote anche in senso negativo, perché una cosa è quando mia mamma sta cercando di tirarmi fuori da un qualche cosa di deludente, da un'esperienza brutta, quindi sta cercando in qualche modo di aiutarmi a superarla. Un'altra cosa è quando invece non vogliamo deludere l'aspettativa altrui, a tal punto di rinunciare a una nostra peculiarità, a un nostro talento, a una nostra bravura, pur di essere quello che gli altri pensano che è giusto che noi siamo. E ci sono un sacco di ragazzini che facendo così compiono azioni vergognose. Pur di non deludere l'aspettativa dell'amico, io faccio del male ad un'altra persona, io bullizzo un ragazzino più sfortunato. Pur di non deludere l'aspettativa del gruppo, io prendo in giro il ragazzino che a scuola è quello un pochettino più timido, più chiuso. Quante ne sentiamo di casistiche così? Di ragazzini che vengono bullizzati da altri ragazzini dove magari nel gruppo dei ragazzini che bullizzano uno è quello che veramente ha una personalità cattiva, che vuole magari affondare qualcun altro e tutti gli altri si lasciano tirare dietro per non deludere le aspettative che questo amico, leader, ha nei loro confronti. Quante volte ci è successo di venire a contatto con storie di questo genere? E io mi chiedo e la riflessione è, ma ne vale davvero la pena? Anche nel momento in cui andiamo a deludere le aspettative che i nostri genitori hanno nei nostri confronti, ne vale davvero la pena? Vale davvero la pena di deludere l'aspettativa della mamma o del papà che magari vogliono diventare nonni se noi non desideriamo avere figli? O se noi magari siamo omosessuali e quindi giustamente non abbiamo la possibilità di procreare biologicamente con il nostro compagno, col compagno o la compagna che abbiamo scelto? Vale la pena vivere una vita di frustrazione per noi pur di non deludere le aspettative di qualcuno che ci vuole bene? Se qualcuno ci vuole bene non dovrebbe essere contento della nostra felicità? È una riflessione fatela e facciamola anche al contrario perché tante volte stiamo noi a caricare di aspettative un'altra persona e magari senza volerlo decretiamo la frustrazione e il malessere e il male di quest'altra persona che può essere nostro padre, nostra madre, nostro figlio, sorella, compagno, amici, conoscenti che magari per far felici noi scelgono di vivere vite infelici o incomplete. Bene ragazzi la mia riflessione era questa io mi auguro di di averne fatta fare una anche a voi di riflessione se questi argomenti continuano a venire così tanto fuori vuol dire che la nostra società ancora ha bisogno di fare delle riflessioni in tal senso. Se ci sono ancora dei ragazzini che mettono in rete video in cui dicono che non vogliono deludere le aspettative di mamma e papà e quindi preferiscono rinunciare a determinate cose della loro vita ancora vuol dire che dobbiamo fare qualche riflessione a questo proposito. Se noi stessi abbiamo ancora paura di mostrarci per quello che siamo di fare delle scelte che sono completamente all'opposto da quello che sceglierebbero i nostri genitori per noi o i nostri figli per noi o i nostri amici per noi allora anche lì abbiamo bisogno di fare qualche altra riflessione a proposito di questo tema. Se avete qualche cosa da dire ovviamente sotto l'info box c'è la parte relativa ai commenti io come al solito vi chiedo di farlo sempre con educazione e cortesia non vi reggo solo io ci leggiamo tutti e questo è un momento che andrebbe sfruttato proprio per creare del dibattito tra me voi e tra voi e voi e tra voi e me insomma tra tutti quanti. Cerchiamo di essere intelligenti e di sfruttare questi momenti nella maniera migliore possibile. Io vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo video se l'avete fatto nel vostro commento magari lasciate anche un piccolo cuore così io saprò che avete visto il video fino a qui. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like in modo che il canale possa crescere magari condividete anche questi tipi di video sulla vostra pagina facebook sul vostro profilo instagram fateli girare perché chissamai che continuando a fare questo genere di riflessioni ci saranno sempre più persone disposte ad essere felici per la felicità altrui magari anche per la vostra. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella delle notifiche in modo che verrete sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò un video. Vi ringrazio ancora una volta vi mando il solito mega bacio e tantissimo ma tantissimo amore.